Andiamo avanti con la resistenza passiva fino alla fine dell'aula, dalle 13.30 ci saranno le riunioni dei gruppi parlamentari di minoranza, iniziamo noi dalla Lega alle 13.30 successivamente tutti gli altri, dalle 14 in poi, alle 15 una riunione di capigruppo e poi prenderemo la decisione su che cosa fare.